ben ragazzi ciao amici di fisherland e benvenuti a un nuovo medium short video questi video un po più veloci delle solite recensioni ci servono per implementare video già usciti sul nostro canale youtube in questo caso come avete visto da titolo sono uscite tre misure nuove della bellissima devo dire ormai provatissima vadel canna da tecnica verticale per la barca di casa daiva sono uscite tre nuove misure quindi in questo video ve la voglio fare vedere ma vi voglio parlare anche un secondo di quella che è la recensione di circa 6-7 mesi fa anzi ve la linko qua sopra così la potete andare a vedere in cui presentavo queste canne molto interessanti proprio perché nascono per questa tecnica dalla barca che è lo slow jigging leggero e ultra leggero e super leggero anche una piccola guida nel districarsi in mezzo a queste tante misure tante forme di questa daiva vadel perché in quel caso la serie di canne che vi avevo presentato presentava appunto una canna che partiva dai 45 grammi in tre misure diverse arrivando fino ai 100 nella stessa misura un metro e 91 canna in due pezzi quindi divisa a metà la seconda serie complementava implementava la serie con altre tre canne manico offset quindi proprio a offrire una forza una potenza maggiore a questo fusto su questa canna che partivano dai 100 grammi arrivavano ai 200 grammi oggi vi voglio parlare della nuova SJ di vadel quindi una canna che parte dai 200 grammi sempre manico offset quindi con un'ottima potenza attraverso i 260 grammi arriva fino ai 330 grammi la domanda che potrebbe nascere a Flavio ma allora questa è una canna da slow pitch attenzione no qua si sta parlando di slow jigging e capita proprio a fagiolo in questo mercato di tecniche verticali dalla barca utilizzando canne chiaramente sempre a questo punto siamo già a livello e quindi inutile ripetersi nel dire che sono tutte canne da utilizzare con il mulinello rotante quindi in questa serie di canne abbiamo una canna da slow jigging che capita a fagiolo perché perché ultimamente si sta parlando moltissimo di utilizzare in verticale dalla barca grosse gomme come ad esempio i calamari di gomma con la testa piombata i black mino molto grandi con teste da 150 a 160 grammi e via discorrendo in misure molto voluminose per andare sul fondo e cercare di pescare il predatore di fondo ma non solo perché poi sono esche che vanno bene anche i pesci che grufolano sul fondo in qualche modo in questo caso capita a fagiolo perché si sta parlando anche in questo periodo di una sorta di morto manovrato morte maine mi sembrerebbe di ricordare tanti anni fa in francese tecnica che arrivava per l'acqua dolce viene riportata tranquillamente con grande successo sembra in mare perché si parla di morto manovrato cioè quindi utilizzare un'esca vera che può essere una seppia un polpo un calamaro in questo caso con una montatura particolare poi potremo entrare anche nel dettaglio per farvi vedere quella e utilizzare delle teste piombate con un amo o con più ami per poter praticare appunto l'innesco ma questo è un altro video è un altro film ne parleremo un'altra volta oggi quindi vi voglio fare vedere come faccio di solito questa bellissima vadel vi faccio già vedere intanto questa che ha la confezione in modo da giusto da avere un po di parametro di confronto rispetto a quella classica che potrebbe essere la custodia di una canna normale viene consegnata con questa canna vi faccio subito vedere cambiando l'inquadratura questa è la nostra canna che ho lasciato imballata appositamente qua abbiamo la nostra vadel slow jigging attenzione che su questa custodia troviamo un sacco veramente tantissime informazioni su questa canna intanto vediamo slow jigging quindi il codice di questa vadel SJ troviamo la lunghezza troviamo il peso in questo caso vi sto facendo vedere la più pesante da 200 a 330 grammi di utilizzo massimo abbiamo un consiglio su quello che è il pie da utilizzarsi come treccia ma soprattutto da questa parte ve lo metto così spero si possa vedere bene ci sono un sacco di informazioni tecniche su questa canna troviamo 141 che è l'ingombro troviamo un metro e 91 che è la lunghezza 6 piedi e 3 quindi in canna completamente montata comunque sempre in due elementi manico offset ve lo ricordo poi l'andiamo a vedere troviamo il peso della canna che è 120 grammi addirittura troviamo i diametri cosa che non si trova spesso i diametri di inizio di canna quindi 9,9 millimetri e la punta quindi il cimino di questa canna che in questo caso è 2 millimetri la grammatura di utilizzo e di nuovo qua il nostro e la nostra dicitura nostro consiglio su quello che è la nostra treccia qua sotto adesso non ve la faccio vedere ma vedete in nero perché dentro la confezione troviamo anche quella che la custodia in stoffa con cerniera andiamo subito a vedere la cosa che invece ci interessa di più vi arriva in poche parole pronta via così abbiamo in dotazione le due fascette quindi vedete il neoprene con i due velcri che possiamo prendere e togliere in questo modo così andiamo subito a vedere quella che è l'impugnatura non mi dilungo troppo nella parte tecnica perché è esattamente uguale a quella di prima troviamo questo manico in eva splittato molto molto lungo vi faccio vedere anche cambiando un secondo l'inquadratura quanto lungo è questo manico vedete come è lungo proprio perché deve andare sotto la scella per fare questo movimento in base poi chiaramente alle nostre esche ritorniamo di nuovo in questa con questa inquadratura troviamo quindi la nostra placca assolutamente con il nostro grilletto per utilizzo del mulinello rottante questa è una placca molto molto precisa troviamo poi qua chiaramente l'inserimento dell'offset da dove partirà poi la nostra canna una canna che ha pur essendo una 300 grammi un fusto molto sottile questo grazie anche appunto all'offset e quindi alla potenza che offre in questo caso le scritte non ci dilunghiamo troppo l'abbiamo già detto va della SJ quindi questo è il codice 63 B4 identifica proprio la tipologia la grammatura di questa canna chiaramente canna da utilizzarsi con gli anelli al cielo anche questo inutile dirlo giusto l'anello pietra in silicio da utilizzare sempre con il trecciato troviamo i primi tre anelli doppio ponte in questo caso e poi andiamo a morire fino al monoponte sulla cima una canna che pur essendo una 300 grammi ha una bella azione gobbosa slow jigging slow vuol dire lento quindi è una canna che si addice benissimo a tutte quelle che sono le plate medio pesanti in questo caso medio più medio che pesanti in questo caso per la nostra tecnica in verticale ma soprattutto per l'utilizzo come vi dicevo di queste grosse gomme che funzionano veramente bene potrebbero essere anche loro molto evolute nel tempo perché potrebbero uscire un sacco di forme diverse un sacco di grammature diverse per un sacco quindi di movimenti diversi abbiamo bisogno di una canna abbastanza lenta nel movimento lenta nel senso che quando noi alziamo e diamo la cercata all'artificiale l'artificiale laggiù quindi in questo caso la gomma o il morto manovrato devono prendere devono tenere una certa naturalezza passatemi il termine quindi non serve una canna super extra fast quindi una canna molto veloce molto rapida serve proprio una canna abbastanza gommosa che in modo sinuoso faccia muovere la nostra esca sul fondo perché le esche che utilizziamo per questa tecnica devono essere principalmente esche da utilizzarsi in modo naturale e sinuoso il rapporto qualità prezzo di questa canna è esattamente come rapporto qualità prezzo dell'altra aveva preso l'altra canna un voto molto alto da parte mia anche per l'indirizzo di questo a pesca in verticale leggero come sapete ve l'ho già detto in un sacco di video la mia previsione personale quella che più si va avanti e più usciranno tecniche light super light super extra ultra light in questo mondo della tecnica verticale perché funziona moltissimo il piccolo gig funzionano bene le gomme come dicevamo prima ma ancora di più in questo caso mi piace perché questa è una canna che è fatta secondo il mio punto di vista proprio per donare naturalezza quelle esche la sotto quindi anche in questo caso vi dicevo rapporto qualità prezzo ottimo perché mi sembra che siamo intorno ai 160 euro tutti e tre le misure contenute dentro questo prezzo chiaramente è un articolo molto importante è un articolo che lo si può utilizzare anche poi dalla barca per altre cose ma prevalentemente diciamo che il suo fare è proprio questo quindi il costo è di circa 160 euro ve l'ho detto vi do un voto in questo caso l'altra volta aveva preso un voto alto la tipologia di oggetto perché copiava inseriva nel mercato un qualche cosa che non c'era in questo caso però prende altrettanto un voto altro perché conclude una gamma completa di una canna che se poi a qualcuno che ha comprato la leggera piace può tranquillamente andare a prendere anche una misurazione una grammatura più importante che ci permette di ampliare ancora di più la nostra tipologia di utilizzo di esche vi ricordo sempre che tutte queste canne dalla più leggera alle più pesanti vanno sempre utilizzate in base all'esca che andiamo a utilizzare alla profondità che andiamo a utilizzare perché non ci dimentichiamo che in profondità abbiamo molti attriti molte cose che diciamo rendono una canna che apparentemente fuori dall'acqua ha un'azione ne cambia completamente appunto quando siamo in barca quindi queste cose sono sempre da valutare voto 9 non mi ricordo il voto che avevo dato nell'altro video ma in questo caso voto 9 assolutamente pieno bello il rapporto bella la canna giustamente fatta bene anche il discorso del manico mi piace mi piace questa questo aumento di grammatura che c'è stato anche se io amo molto canne leggere ma in questo caso mi piace anche la dolcezza che questa 300 grammi o la 260 o ancora di più la 200 donano al nostro artificiale insieme chiaramente alla potenza anche grazie al manico offset e a tutta questa canna che rimane una canna veramente con un'azione bella mi piace molto 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 bene bene ragazzi grazie per essere a me state ascoltate questo video si conclude qua continuate a seguirci sui nostri social mettete un like se vi è piaciuto condividete il video iscrivetevi al canale mi raccomando attivate le notifiche a questo punto io e la nuova Daiva Vadel SJ vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi anzi lo faccio con questo questa volta che la pesca sia con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti